Ragusa torna al successo e ritrova il sorriso. La Passalacqua gioca un ottimo terzo quarto e non fallisce la trasferta, vincendo con un punteggio di 57 a 67. Dopo la prima parte di gara, giocata in equilibrio, è stato nella seconda parte dell'incontro che la squadra di Recupido è riuscita a fare il break decisivo ed è poi riuscita a gestire l'incontro finale, che ha consegnato il punto numero 4 in classifica alle Biancoverdi. Era una partita difficilissima, commenta il coach, soprattutto perché entrambe le squadre avevano uno stato mentale differente, noi con due sconfitte alle spalle, Broni riduce da due vittorie, quindi la temevamo molto, anche perché non eravamo abbastanza rilassati e sciolti. Però ce l'abbiamo fatta, ma ovviamente ci sono tante cose su cui lavorare ed aggiustare. D'altra parte, dalle sconfitte non ci sono solo cose negative e dalle vittorie non arrivano solo cose positive, ma lavorare dopo una vittoria è sicuramente più facile, perché lo si può fare con un po' di leggerezza in più. E domenica prossima arriva Lucca, al Palaminardi, reduce del successo con Vigarano. E domenica prossima